Luigi Altamura, Comandante Corpo Polizia Municipale di Verona. Siamo ad Arena 2016, tecnologia e sicurezza. Qual è il connubio? Fondamentale. Senza la tecnologia noi non avremmo potuto ottenere tutta una serie di risultati connessi a fatti legati alla sicurezza stradale, legati alla sicurezza urbana e pertanto legati a una maggiore richiesta di sicurezza che arriva dal territorio. Le banche dati, la georeferenziazione e soprattutto la sinergia tra banche dati pubbliche e soprattutto banche dati che portano una serie di informazioni utili ad analizzare i fenomeni pensiamo alla pirateria stradale piuttosto che al degrado in certe aree urbane e in considerazione della presenza sul territorio di pattuglie che hanno strumenti tecnologici ed evoluti come i palmari. Questo è un valore aggiunto alla sicurezza che ci viene chiesto dall'amministrazione comunale ci viene richiesto dal cittadino. Per cui la sinergia uomo-tecnologia che diventa ormai indissolubile per realizzare maggiori risultati in tema di sicurezza globale.